Bella, postazione numero 3 Contrada, San Pierino, postazione numero 4 Questo è il secondo gruppo Terzo gruppo, postazione numero 1 Porta, hai l'onda? Postazione numero 2 Contrada, Quercciola, postazione numero 4 Allora, in campo scendono i giocatori e i due responsabili Uno che è posto insieme a ragazzi Uno qui davanti al castello Ricordo, hai? Postazione numero 3, ok? Ogni bambino fa tre lanci Dopo i primi tre lanci ci fermiamo tutti e riaspettiamo l'ok Il castello viene ricostruito dopo i tre lanci di ogni giocatore Allora, Niccolò, sei pronto? Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Ok, ci fermiamo, facciamo un conto Manteniamo le posizioni Ok, allora, i bambini con la palla devono cercare di tirarla dentro la bigoccia Tiro a canestro Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Allora, fermi un attimo Stop, 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 stop Si devono fare quattro lanci Quanti lanci sono stati fatti? Allora, quattro Orgonomo deve fare un altro lancio Eh? Ok, bravissimo Concentrati perché guardiamo tutti Vai, forza! Hai visto! Oh, bravo! Mi raccomando anche il responsabile Pronti? 3, 2, 1, via! Spendate! E' quanto? Ok. Siamo pronti? Quattro lanci, eh? Tre, due, uno, via! Bravo! Forza, forza, dai! Eccola, ecco l'altro qua! Ok, fatto quattro? Ferruzza, quattro! Bernarda, sei! Bordonovo, otto! C'è la cinque! C'è la carriera, sette! Siamo qua, non sarebbe la cinque, siamo qui la sei! Forza, la monta, sette! Bordonovo, sette! Torno, tre, partiamo, cinque! E' un'altra parte! Giocare! Si devono battere il cinque! Tocca! Mano su! Tre, due, uno, via! Siamo qua! Siamo qua! Devi ritornare! Lo detto prima, con calma, con calma! Fate le cose con calma, con calma! Quello non è importante, non è importante! Ok? Con calma! Con calma! è troppo pericolata un po' di stile si dovrà iniziare in una è troppo pericolata e c'è la posizione vai 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 se c'è la posizione non è con calma si può fare si può fare Grazie a tutti. I bambini devono cercare di lanciare il cielo sull'udizia. Ok? Mi siete allenati tanto o poco? Tanto e tanto. Ovvio, lo vediamo un po'. Se viene il risultato, se non viene il paziente, vai! Qui siamo? Dottie, tre, due, uno, spia! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Grazie a tutti. 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 Grazie.